Eccoti lì, lo sappiamo, hai visto The Substance e sei anche riuscito a sopravvivere senza vomitare tutto nel sacchetto dei popcorn. Però una volta lasciata la Sara c'era questa sensazione strana, ne volevi ancora. Volevi ancora quel disagio psicologico, visivo, quella carne che esplode dappertutto. Ma non solo, vuoi che questa carne esploda in modo, diciamo, elegante, filosofico, very demure, very mindful, very cutesy. Chiuzzi no dai, chiuzzi no. E vuoi questo disagio anche in salsa videoludica? Non ti preoccupare, ci pensiamo noi. Per fortuna e per qualsiasi gusto tuo perverso siamo qui e abbiamo deciso di fare un video proprio per accontentarti. Quindi mettiti comodo e lascia che noi di Arcadia Cafè ti proponiamo una bella playlist, un menù di body horror il più esplosivo possibile. Prendi popcorn, sacchetto del vomito, ricorda di mettere un mi piace, di iscriverti e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornato sulle new entry del menù. Eeeh, che dire, cioè partiamo con questi cinque videogiochi che raccontano la vita attraverso il body horror. Top! Pa! Forse The Substance ti ha fatto intuire che il body horror può essere anche un qualcosa che va oltre lo shock e che può raccontarti in modo metaforico qualcos'altro, anche di molto politico. Questo è esattamente quello che succede in Inside, pietra miliare del videogioco indie sviluppato da Play Dead ed un giocone da recuperare assolutamente in ogni caso. Che ti piaccia o non ti piaccia il body horror? Che tra l'altro neanche di un horror si tratta, ma è un gioco che sa come solleticarti l'ansia, ecco. Ci troviamo all'interno di uno scenario distopico e vestiremo i panni di questo bambino senza nome e senza faccia con un maione rosso. Intento a scappare da dei poliziotti. Tu ti domandi che cosa avrà fatto questo bambino per scappare da dei poliziotti? Probabilmente non ha fatto niente. E nella nostra avventura, andando sempre più a fondo in questa città distopica dove non capiamo che cosa sta succedendo, ci rendiamo conto di essere all'interno di un sistema molto simile a quello di 1984, dove i corpi vengono controllati, le menti vengono controllate e neanche noi col protagonista potremmo scappare da questa cosa. Saremo costretti a soggiocare gli altri per andare avanti. Ma non vi dico nient'altro perché non voglio farvi spoiler e dovete giocare assolutamente Inside. Ma perché lo dovresti giocare soprattutto se ti è piaciuto The Substance? Innanzitutto qui il tema della spersonalizzazione è praticamente centrale. Non solo vestiamo i panni di un personaggio principale senza faccia, ma tutte le altre persone, tutti gli altri modelli 3D saranno esattamente uguali a noi. Il gioco è completamente silenzioso e a parte i rumori ambientali ci sarà ben poco da ascoltare. Inside, come ogni distopia che si rispetti, riflette anche sulle tematiche dell'omologazione e del valore della diversità. E lo fa proprio attraverso il body horror, soprattutto nel finale. Ma shh... Qual è il luogo dove il body horror può dare il massimo? Sicuramente non sulla Terra perché vediamo delle cose fuori di testa, fuori da questo mondo, e perché allora non ambientarle proprio nello spazio? Infatti una delle location più proficue per il body horror è fuori dalla nostra stratosfera. E questo vale per il cinema, ma vale anche per i videogiochi. Nel cinema abbiamo ad esempio Alien, nei videogiochi abbiamo Dead Space. Per chi non lo conoscesse, in pochissime parole, Dead Space è un videogioco sui problemi degli ingegneri. Cioè praticamente impersoniamo Isaac, che è un ingegnere, che va su questa nave spaziale che in teoria è stata invasa da questi parassiti che uccidono gli umani e si impossessano dei loro corpi per poi distorcerli e creare delle cose bruttissime, affascinanti in un certo senso, ma che non sono il problema principale, perché il problema principale è che questa nave sta cadendo a pezzi senza motivo e ogni volta che aggiusta qualcosa se ne rompe un'altra. Il tutto condito da un bellissimo culto ispirato a Scientology, belle personcine che vorrebbero riunire tutti gli esseri in un unicamente. Questa per farla brevissima e vi ho parlato del primo Dead Space, ce ne sono almeno tre, è un remake. Però il nostro consiglio di giocare i primi due, perché il terzo, a meno che non lo giochiate in cooperativa, non è proprio geniale. Comunque il punto principale per questo video sono i mostri che escono dalle fottute pareti di questo gioco, i necromorfi, questi parassiti che appunto sfruttano il corpo umano per assumere delle sembianze, ma non si accontentano delle stupide sembianze umane e cercano di potenziarle, soprattutto facendogli spuntare tanti arti che noi, nei panni di Isaac, gli dovremmo tagliare. Però ce ne sono davvero di tutti i gusti. Ci sono quelli mezzi volanti, quelli tipo scorpione, i bruti e tante cose pustolose anche. Ma non vi ho parlato del lato psicologico di Dead Space, perché non c'è solo il terrore fisico, quest'unica mente interferisce anche col cervello di chi viene a contatto con questi mostri. Cosa ha in comune con The Substance? Il concetto che entrare a far parte di quest'unica mente dovrebbe essere la versione definitiva dell'umanità, quindi la versione migliore di ognuno di noi, che è proprio il tema portante di The Substance. Uno dei temi centrali di The Substance è il fatto che il nostro corpo sia sostituibile, che abbia una data di scadenza e che dopo di questa non servirà più a niente e andrà buttato come un pezzo di spazzatura. Questo è quello che succede alla protagonista del film, ma è un po' il messaggio che ci manda questo gioco indie molto particolare e anche molto discusso di nome Scorn, che riflette tra le altre cose sulla decadenza dei corpi e sulla fragilità della vita. Scorn è un gioco molto molto particolare. Ha un po' di walking simulator, ha un po' di elementi puzzle, e ha teme horror, c'ha del sangue, c'ha del gore, insomma è un po' un mosaico. Ma la cosa importantissima di Scorn è che tutte le sue ambientazioni sono profondamente depitrici del lavoro di Giger, che per chi non lo conoscesse è il signore che ha letteralmente inventato Alien, che tra le altre cose, parlando del film di Ridley Scott, è considerato un po' un po' di horror. Scorn riprendendo l'arte di Giger ci fa vedere un mondo in cui la biomeccanica la fa da padrone. Ci sono questi scenari, questi oggetti, che sono un misto di carne e di meccanismi. È un qualcosa che ha molto a che fare con The Substance, in cui vediamo sì delle persone che camminano, lavorano, fanno varie cose, ma le percepiamo un po' come ingranaggi di un sistema molto più grande, spersonalizzante, alienante. Non solo, le ambientazioni di Scorn sono pervase da questa incredibile violenza, e non parlo solo del sangue. Molto spesso vivremo scene di vera e propria violenza gratuita, ai danni di esseri indifesi. Solo perché sono lì ad ostacolarci, sono in mezzo ai piedi, o semplicemente sono appunto corpi inutili, di cui nessuno ha più bisogno e che vanno schiacciati. Esattamente come il corpo di Elisabeth, la protagonista di The Substance, viene schiacciato, aperto e rattoppato da una società in cui, diciamo che non è ben voluto. Torniamo a parlare di saghe. Questa, vabbè, se videogiocate almeno di nome la conoscete, poi è uscito anche un remake proprio l'altro giorno, Silent Hill. E anche qui, come Dead Space, il body horror ci fa paura sia in senso fisico, sia in senso psicologico. Ma in un modo un po' diverso. In Silent Hill è molto più importante l'approccio al proprio inconscio, alle proprie paure, ai propri limiti, e in molti casi ai propri disturbi, ai propri traumi. In Silent Hill possiamo vedere depressione, ansia, disturbi alimentari. E li possiamo vedere non solo nei personaggi principali e secondari, ma soprattutto nei mostri e nelle ambientazioni, che sono la proiezione delle menti distorte dei personaggi che incontriamo. A livello di design dei mostri, forse quello più vivido, più body horror, più dismorfico è Silent Hill 3. Ma anche gli altri non scherzano. Perché appunto questo body horror ha un contesto psicologico che lo rende ancora più pauroso. Quei mostri non sono schifosi per il gusto di essere schifosi, ma rappresentano fisicamente dei traumi. Vi faccio un esempio molto forte, quindi state attenti. C'è questo boss che fisicamente è uno scopro. Cioè ci sono queste due persone incastrate in una porta, insaccate in un involucro di carne. E questo è un essere che si muove e che dovremo combattere. Ma non abbiamo ancora considerato la cosa alla base, più scontata e più evidente di The Substance. La sostanza, la droga. Tutto il film rotto attorno a questa sostanza, The Substance, che è in grado di sbloccare il tuo DNA, come se tu non ne fossi in grado, e di creare un clone, una copia tua, della tua personalità e del tuo corpo migliore, più giovane, più performante, per fuggire dal dolore di una società che non ti vuole più, e per la quale sei ormai inutile, almeno per sette giorni. E c'è un videogioco così angosciante che tra le altre cose di cui tratta, ha proprio come uno dei temi centrali l'escapismo attraverso sostanze strane, che in questo caso non sono verdi, ma sono blu. E sto parlando di Liza The Painful, che oltre a essere uno dei miei videogiochi preferiti in assoluto, è quello più simile a The Substance a livello di tematiche, e potrebbe essere esattamente il gioco che fa caso tuo. Qui ci troviamo in uno scenario post-apocalittico. È successo un casino. All'improvviso le donne sono scomparse. Oi boh. Vestiremo i panni del protagonista, Brad, un uomo di mezza età, distrutto dalla vita e dal dolore, che un giorno vive un'esperienza mistica. Non solo perché si droga fortissimo, ma perché trova questa neonata abbandonata, l'unica neonata femmina rimasta sul pianeta. Vedendola in difesa e senza nessuno intorno, decide di prendersene cura. La porta a casa con sé, la fa crescere, se ne prende cura, e i due stringono un rapporto molto forte. Ma la cosa interessante per quanto riguarda The Substance dell'Isa The Painful è che ci troviamo in una situazione in cui tutti i personaggi sono estremamente distrutti, maninconici, perché non hanno più un ruolo nella ex società in cui vivevano. Adesso sono senza donne, senza lavoro, senza case, tutto deserto, senza una prospettiva e senza futuro. Cosa fare in questi casi, se non togliersi proprio di mezzo, assumere la joy. La joy è una droga immaginaria presenta in L'Isa The Painful sotto forma di piccole pilloline blu che, come descritto dal gioco, non ti fa provare più nulla. Né dolore, né depressione, ma neanche la felicità, la gioia, sentimenti positivi, nulla. Il grigio più totale, pur di scappare da una realtà in cui si sentono stretti e persi. C'è solo un piccolo effetto collaterale. Piccolissimissimissimo. Ovvero che l'abuso di joy ti trasforma in questo coso qui. Questo è un joy mutant, un ammasso di carne esplosa da una persona dipendente dalla joy che non potrà mai più tornare indietro, che perderà la sua umanità sia a livello fisico sia a livello psicologico, mentale, a livello di lingua, di parole, tutto. Praticamente per scappare dal dolore la soluzione è diventare la cosa di Carpenter. Cosa di Carpenter citata ampliamente anche da The Substance. Ma con il nostro caro film L'Isa non ha solo in comune il tema della sostanza ma anche quello della condizione femminile. E direte voi, ma in un mondo dove ci sono solo uomini e dove ci sono solo maci, eccetera eccetera, come posso parlare di condizione femminile? Giocalo. Non ti posso dire tutto io. Vai e recuperalo. Così almeno posso parlarne con qualcuno che nessuno lo conosce, sto capolavoro. È incredibile. Credo che dopo aver visto questo video ti sarei reso conto che il body horror non è semplicemente qualcosa di visivo, qualcosa che deve farti schifo o che deve spaventarti. Ma si tratta di uno strumento narrativo potente che può raccontarci l'ansia, la vulnerabilità e le nostre paure relativi all'identità. Cosa ci rende umani? Quindi se sei arrivato fin qui innanzitutto complimenti perché sei sopravvissuto al Substance ma anche alle immagini terribili che ti abbiamo fatto vedere durante questo video. E a proposito di giochi terribili, li conoscevi? Qualcuno l'hai giocato? Qualcuno no? Sicuramente Lice at the Painful non lo conoscevi perché ogni persona a cui nomino questo gioco non l'ha mai mai sentito. Però potresti anche smentirmi nei commenti. Ma io direi che se non lo conosce può anche proseguire e guardare qui questo video qua perché insomma è una bella chicca. E ogni caso se hai proprio questo appetito per il body horror ti consigliamo di commentare qua sotto nei commenti con l'emoticon esplosione. Grazie a tutti.